Siete tutti bravi a trovare delle scuse! O è una questione di gambe! O è una questione religiosa! O è una questione psicologica! O è un attacco cardiaco! Chi ha parlato di attacco cardiaco? Io! Un'ambulanza! Ehi, lui! I dottori dicono che dovrò starmi nel riposo per un po'. Vorrei che fossi tu a mandare avanti la squadra. Stai scherzando? Io non ho nessuna esperienza in questo campo. Sei uno dei migliori giocatori che io abbia mai allenato. Tutti i ragazzi ti rispettano. Di adorno che ci pensarei tu e basta. Calcola i lati positivi. Tanto peggio di così non può andare.